La prima cosa secondo me è trovare una brigata, una brigata che ti segue, un po' dopo un po' scompare, diventa famiglia. Quando capisci che c'è la famiglia, che hai la famiglia attorno, allora lì incominci a crescere, a cercare, a scavare dentro alla tradizione. Per trasformare e per esaltare la tradizione ci vogliono strumenti, macchinari, accessori e loro pure là fai una ricerca. Ho portato nella mia cucina una bella tradizione, una bella famiglia, officine Gullo, un altro sogno che si è avverato, bello. Grazie per la visione!